Attualmente siamo in sette persone, aspettiamo altre persone come supporto per i steviali parafuoco perché sono lunghi e abbiamo urgenza di terminarli per la prevenzione degli incendi. Data di termine ci auguriamo il più presto possibile, proprio per evitare tutti questi incendi e così via. Rispetto agli anni passati abbiamo cominciato molto molto prima ed è una grande e bella cosa sia per noi lavoratori che per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, la manutenzione dei boschi, il sesto ideologico delle stradelle, delle cunette, insomma è stato un bel accordo, meno male che è avvenuto. Finalmente è avvenuto e questa convenzione sarà illustrata martedì prossimo alle ore 10 nella sala consigliare del comune di Alcamo alla presenza di responsabili della forestale e del commissario comunale. Signor Giampino, diciamo qua la montagna è molto grande, sono 300 ettari di bosco che chiaramente dovrete fare delle manutenzioni. L'ordinaria è straordinaria, sì. Quindi l'ordinaria ci sono periodi in cui si fa l'ordinaria e l'altra è straordinaria? Allora questo qua è un lavoro diciamo ordinario, però straordinario per quanto riguarda tutta la prevenzione degli incendi, infatti lasciamo tutto proprio per dare seguito a questi lavori, a questa tipologia di lavoro, proprio per gli incendi, quindi è una cosa molto molto importante.